cari amici benvenuti a questo nuovo video oggi vogliamo parlare della pasqua ebraica già l'ho fatto in un video precedente però come molti di voi avete notato ci sono stati alcuni problemi tecnici legati all'audio e al video e quindi ho deciso di riproporre l'argomento ma vista l'occasione della nuova registrazione ne approfitto anche per raggiungere cose nuove che non avevo detto nel video precedente il video precedente rimane online registrato anche nei suoi difetti tecnici perché ormai alcuni avevano commentato però attualmente ho bloccato i commenti in modo nessuno possa più intervenire piuttosto intervenga sotto a questo video ecco il video lo trovate linkato qui in alto per chi fosse interessato ma diciamo se solo se siete veramente interessati ad ascoltare cose che magari si diranno nuovamente in questa serie bene approfittando di questa occasione ho preso un po di appunti ho messo da parte qualche versetto che noi leggeremo io non vi mostro il mio schermo come per il video precedente perché probabilmente il mio computer che non è abbastanza performante è andato in conflitto e quindi non riusciva a gestire sia la registrazione del video che il browser di internet aperto bene io vi leggerò dei brani che commenterò per voi vuole essere questo non uno studio biblico attenzione non vuole essere un sermone ma una semplice riflessione a voce alta che voglio condividere con voi quindi quando leggerò qualcosa il testo vi comparirà sovraimpressione così vi rimarrà almeno il brano che leggerò con il riferimento biblico ecco voglio fare questa questa cosa per evitare di bloccare l'audio e il video come è successo in precedenza bene parliamo della pasqua ebraica la pasqua ebraica non va confusa con la pasqua dei credenti in yeshua perché sono due cose distinte e separate molti mi chiedono daniele ma un credente in gesù in che modo deve osservare la pasqua ebraica e io aggiungerei ammesso che la pasqua ebraica un credente in yeshua debba osservarla bene oggi non so quanto tempo dedicherò a questo video ci prendiamo tutto il tempo che ci serve un'ora due ore quelle che saranno io non so quanto tempo dedicherò quindi invito a mettervi comodi e a prestare molta molta attenzione qualora dovessi dimenticare o mettere qualcosa scrivetemelo nei commenti così magari possiamo chiarirci ulteriormente attraverso la comunicazione anche se epistolare ecco quindi cerchiamo di capire innanzitutto cos'è la pasqua la pasqua viene istituita poco prima dell'uscita degli ebrei dall'egitto ecco ci troviamo nella decima piaga praticamente poco prima della decima piaga il signore ordina di istituire la pesa ma prima di dare le istruzioni su cosa bisogna mangiare cosa non bisogna mangiare cosa bisogna rimuovere o chi può accostarsi o chi non può accostarsi alla pasqua del signore viene stabilita una cosa importante l'inizio del calendario ebraico l'inizio del primo mese dell'anno ebraico infatti in esodo 12 primi due versetti la prima cosa che leggiamo è l'istituzione della pasqua non con il ritualismo che fra poco leggeremo ma con la fissazione del calendario il signore parlò a mosea daronne nel paese d'egitto dicendo questo mese sarà per voi il primo dei mesi sarà per voi il primo dei mesi dell'anno ecco già ci stanno la scrittura ci sta dando questa istruzione meno io sta dando agli ebrei dell'epoca l'istruzione della pesa con l'istituzione del mese e questo mese verrà poi ripetuto in esodo 12 versetti 14 e successivi dove dice quel giorno ovvero il primo giorno del mese sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa in onore del signore lo celebrerete di età in età come una legge perenne quindi le cose che il signore ci sta per dire o comunque il signore le cose che il signore stava per dire agli ebrei erano cose che dovevano mantenersi intatte lungo il corso del tempo quindi come una legge perenne olam si usa nel testo ebraico la stessa parola generalmente tradotta con eternità per sette giorni mangerete panni azimi e già qua c'è la prima istruzione mangerete panni azimi per sette giorni fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case perché chiunque mangerà panni lievitato dal primo giorno fino al settimo sarà tolto via da israele questo non significa che viene ucciso attenzione semplicemente che viene allontanato dalla comunità finché non fossero terminati i festeggiamenti pasquali e questo per sette giorni il primo giorno avrete una riunione sacra e un'altra anche il settimo giorno non si faccia nessun lavoro in questi giorni si prepari soltanto quello che è necessario a ciascuno per mangiare e non altro osservate dunque la festa degli azimi in ebraico è mazzotto femminile plurale quindi festa delle azime se vogliamo essere puntigliosi poiché in quello stesso giorno io avrò fatto uscire le vostre schiere dal paese di mizraim d'egitto osserverete dunque quel giorno di età in età come un'istruzione perenne la seconda volta che viene specificato che questa è un'istruzione perenne che va mantenuta inalterata mangiate panni azimi dalla sera del quattordicesimo giorno del mese fino alla sera del ventunesimo giorno per sette giorni non si trovi lievito nelle vostre case perché chiunque mangerà qualcosa di lievitato sarà eliminato dalla comunità di israele sia egli straniero o nativo del paese non mangiate nulla di lievitato dovunque abiterete mangerete panni azimi dovunque abiterete è riferito contestualmente parlando agli israeliti nel deserto perché loro si sarebbero spostati di luogo in luogo nel deserto quindi ovunque abiterete osserverete queste cose poi una volta stabilitisi nella terra promessa era lì che poi tutto andava come dire osservato tant'è che la festa di pasqua all'interno delle famiglie in queste feste in genere si andava a gerusalemme perché era lì che le festività ebraiche a livello comunitario venivano osservate quindi vediamo che in esso 12 14 20 ci vengono date delle istruzioni precise pane azimo pane azimo quindi il lievito deve essere abolito per tutta la durata della festa e chiunque viene trovato mangiare cose con lievito andava come dire ostracizzato o espulso momentaneamente dalla comunità di israele ebbene adesso entriamo nello specifico per vedere cosa effettivamente andava mangiato durante la festa di pesac quella biblica quella di mosè esodo 12 8 se ne mangi la carne in quella notte la si mangi arrostita al fuoco con pane azimo e con erbe amare le erbe amare rappresentano l'amarezza che il popolo di israele ha dovuto vivere durante la permanenza in egitto il pane azimo il pane senza lievito il pane azimo perché loro praticamente sono stati cacciati via dagli israeli dagli egiziani quindi nel preparare le loro provviste per andare via non avendo il tempo per far lievitare il pane dovevano cuocere preparare il pane senza lievito e quindi questo per accelerare i tempi infatti oggi per tradizione quando si mangia la pasqua si è praticamente vestiti come se si dovesse essere pronti per andare via immediatamente infatti bisogna mangiare velocemente la pasqua ebraica e si mangi la carne arrostita al fuoco la carne dell'agnello ovviamente e ancora la stessa norma viene stabilita viene descritta sottolineata in numeri 9 11 la celebreranno il quattordicesimo giorno del secondo mese all'imbrunire mangeranno la vittima cioè l'agnello con pane azimo e con erbe amare questi sono gli unici ingredienti che un osservatore della lettera della legge deve utilizzare la carne dell'agnello il pane non lievitato azimo e le erbe amare tre alimenti agnello pane azimo ed erbe amare e come abbiamo letto poc'anzi sia questo uno statuto perenne non deve essere cambiato deve essere così di età in età ora volevo farvi notare che purtroppo da quando è stato distrutto il tempio i saggi di israele hanno come dire bypassato quello che già diceva la cultura e hanno aggiunto delle norme delle norme che poi prendono il nome di talmud di alaha eccetera eccetera io ho qui con me il testo delle chizur shulchan aruk ovvero quello che noi potremmo definire nella nostra lingua italiana il galateo ovvero il buone le buone maniere il modo di sapersi comportare a tavola con le persone il chizur shulchan aruk oltretutto in qualità di galateo giudaico si preoccupa anche di dare le istruzioni su come indossare i tefillin su come praticare determinati rituali sul fatto di lavarsi le mani la mattina quando ci si sveglia di allacciarsi le scarpe prima quella prima quello della scarpa sinistra e poi quello della scarpa destra o viceversa ecco vengono date tantissime istruzioni sulla vita quotidiana che l'ebreo deve affrontare ma queste sono tradizioni e a proposito di questo qui che abbiamo appena letto dei tre ingredienti fondamentali e unici che la bibbia descrive carne di agnello pane azimo e erba amara la tradizione rabbinica nel chizur shulchan aruk al capitolo 118 titolo norme relative alla preparazione del seder di pasqua zampa di agnello uovo e modalità di preparazione già qua si parla di un uovo e l'uovo non è prescritto dalla torà ma vediamo cosa dice il chizur a proposito di questa norme relative alla preparazione del seder e ditemi voi se sono le cose che dice la torà oppure sono cose aggiunte da quando è stato distrutto il santuario i nostri saggi hanno deciso i saggi hanno deciso non la torà che sulla tavola nel momento in cui si recita la gadà di pasqua debbano trovarsi due tipi di cibi cucinati uno il ricordo del sacrificio pasquale l'altro il ricordo del sacrificio chagigà chagigà significa il sacrificio della festività che si offriva al tempo in cui esisteva il santuario ma qui non viene dato alcun riferimento biblico in relazione all'esistenza del santuario si tratta quindi di tradizione orale sempre secondo la consuetudine consuetudine non legge consuetudine uno di questi due pasti deve essere a base di carne e costituito dalla parte dell'animale che è chiamata zero a bra o braccio o zampa naturalmente il ricordo del fatto che il santo benedetto egli sia ha operato bisro a neturia con braccio disteso vediamo come prendendo in prestito parole dalla sacra scrittura che effettivamente hashem liberò gli ebrei con braccio disteso si ricava una norma che la bibbia non specifica inoltre dovrà essere arrostito sulla brace il ricordo dell'agnello pasquale che era anch'esso arrostito il secondo cibo cucinato deve essere costituito da un uovo perché l'uovo in aramaico si chiama beya e con esso si vuole alludere al fatto che dio ha avuto desiderio da baei in aramaico di liberarci con braccio disteso e vediamo che la frase presa in prestito del braccio disteso di cui parla effettivamente la scrittura viene utilizzato per aggiungere una norma perché la parola baei in aramaico suona simile alla parola per beya che significa uovo quindi ecco come nasce la leggenda nasce la tradizione dell'uovo di pasqua una tradizione che la bibbia non allude neanche per sbaglio sa magari in copista influenzato dalla tradizione rabbinica ci ha inserito qualche nota a margine dove si dice di mangiare l'uovo di pasqua ebbene l'uovo di pasqua non ha nulla a che fare con la torà qua si parla di un uovo appunto che non è quello di cioccolato naturalmente ma dice che quest'uovo va arrostito oppure bollito questi cibi vanno cotti o arrostiti alla vigilia di yom tov quando è ancora giorno se ci si è dimenticati oppure se il giorno antecedente la festa era shabbat si arrostiranno e si cuociranno verso sera ma in questo caso i cibi andranno consumati entro il primo giorno di yom tov in questo caso occorre fare lo stesso la seconda sera li si arrostirà o cuocerà e li si dovrà mangiare nel secondo giorno in quanto durante yom tov non è consentito cucinare per il successivo festivo né tantomeno per uno yom tov per un giorno feriale inoltre siccome durante queste prime due sere non si mangia carne arrosto è necessario mangiarla solitamente durante il giorno quella carne non la si potrà buttare via neppure quando sia stata arrostita alla vigilia di yom tov mentre potrà essere unita i cibi del secondo giorno di yom tov e poi consumata ebbene la scrittura ci dice che la carne delle della pasqua non deve rimanere per il giorno successivo ma deve essere consumata tutta entro il giorno di pasqua qualora dovessero rimanere degli avanzi perché uno ovviamente non si può ingozzare ovviamente non si può strozzare quello che avanza va bruciato va smaltito come spazzatura mentre qui ci viene detto se non sbaglio e non decontestualizzo quello che si sta dicendo nel kitzur shulchanaruk questa carne non solo si può conservare fino al giorno dopo ma si può consumare insieme ad altri cibi mescolati insieme ecco vediamo come la traduzione la tradizione annulla la parola di dio e a proposito dei tre ingredienti specificati nella scrittura che devono essere devono rimanere invariati nel corso del tempo perennemente dice la scrittura il kitzur in maniera molto tranquilla e diciamo avvolto scoperto ci dice che quando il santuario è stato distrutto i saggi hanno deciso i saggi hanno deciso una cosa che non era una decisione precedente della scrittura ecco mi viene da riflettere molto su questo perché avendo fatto parte del movimento messianico e avendo visto da vicino cosa dicono cosa pensano cosa pregano cosa predicano e cosa insegnano perché molte cose le ho insegnate anche io in prima persona si punta molto sul fatto che per esempio la chiesa cattolica quindi roma quindi il vaticano rappresentino edom l'arci nemico numero uno di israele si dice che anche il messia siede sulle porte di edom perché quando il messia si manifesterà si manifesterà proprio dinnanzi a edom per sconfiggerlo ebbene tutti quei movimenti giudeo cristiani che accusano il movimento cattolico di non basarsi sulle scritture e di basarsi invece sulla tradizione umana che il cattolicesimo chiama magistero chiama dottrine dei padri apostolici chiama catechismo della chiesa cattolica ecco vediamo che la chiesa cattolica mentre da un lato la chiesa cattolica ha il suo magistero e la sua tradizione post biblica anche gli ebrei hanno formulato la loro tradizione post biblica accusando i cattolici di avere una tradizione che annulla la parola di dio senza rendersi conto che loro stessi hanno una tradizione che annulla la parola di dio e a proposito di questo vi leggo un brano della scrittura che conosciamo tutti romani 2 i primi tre versi perciò uomo chiunque tu sia che giudichi sei inescusabile non inventarti scuse non girarci attorno perché nel giudicare gli altri li condanni te stesso questo non vuol dire che tu non puoi giudicare gli altri il giudizio è con giusto giudizio la scrittura lo approva ma se tu giudichi in maniera malvagia o errata quello non è un buon giudizio quindi nel momento in cui tu giudichi gli altri in maniera sbagliata condanni te stesso infatti tu che giudichi fai le stesse cose tu che giudichi i cattolici che si concentrano sulla tradizione post biblica non hai voce in capitolo se poi fai altrettanto se insegni una tradizione post biblica i saggi hanno deciso dopo la distruzione del tempio dice il chizur shul hanaruk non la scrittura hanno detto che la scrittura dice che quindi facciamo attenzione che quando noi giudichiamo le malefatte degli altri guardiamoci da essere noi primi a non averle fatte quindi non sia non siamo come quei buoi che dicono cornuti agli asini perché veramente la scrittura ci dice qualcosa di molto particolare ora noi sappiamo che il giudizio di dio su quelli che fanno tali cose che giudicano gli altri dei peccati che fanno loro in primo luogo il giudizio di dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità pensi tuo uomo che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di dio quindi chi accuse il cattolicesimo di essere troppo tradizionalista deve stare attento a non essere lui prima ancora tradizionalista se diciamo che i cattolici andranno a finire nel giudizio di dio se non si revvedono dalle loro tradizioni ma si basano sulla scrittura lo stesso la stessa sorte capiterà a coloro che fanno le stesse cose dei cattolici e che le denunciano pure quindi quando noi ci focalizziamo sulla tradizione dei saggi che hanno deciso determinate cose che nella scrittura non ci sono scritte stiamo attenti perché non scamperemo dal giudizio di dio alla stessa maniera di come non scamperanno i tradizionalisti post apostolici cattolici quindi se i saggi hanno deciso vuol dire che hanno aggiunto cose che la scrittura diceva e vi potrei citare anche una caterve di brani biblici chiarificatori sul non aggiungere sul non togliere ma vi cito semplicemente un proverbio proverbio che si trova al capitolo 30 ai versetti 5 e 6 ogni parola di dio è affinata con il fuoco egli è uno scudo per chi confida in lui non aggiungere nulla alle sue parole perché egli non rimproveri non ti rimproveri e tu sia trovato bugiardo quindi chi aggiunge parole alla scrittura è bugiardo perché sta mettendo nella bocca di dio parole che lui non ha detto vi faccio un esempio biblico di quanto sia pericoloso aggiungere o togliere parole dalla parola di dio questa è una cosa di cui parlerò prossimamente in un video dedicato all'albero della conoscenza del bene e del male ma vi do solo un piccolo accenno di quello che poi dirò in un po più specifica prossimamente anzi vi inserirò il link in questo video non appena il video poi sarà pronto ebbene vi ricordate eva quando ebbe modo di parlare con il serpente e serpente gli trae gli dice diciamo gli rivolge il tranello ma è vero che dio ha detto di non mangiare da nessun albero ed eva risponde no no non da tu da ogni albero ma solo dall'albero che al centro del giardino ci ha detto di non toccarlo perché nel giorno in cui mangeremo il frutto moriremo e il nakash il serpente risponde ma no ma che dici non morirete affatto anzi nel momento in cui voi mangerete diventerete come dio ecco la filosofia cabalistica dell'uomo elevato a divinità e anche della dottrina agnostica eccetera eccetera cosa è successo di cosa è stato ciò che ha fatto cadere eva in intenti alla tentazione non è stato tanto il serpente che gli metteva strane per la testa ma è stata eva a mettersi una zappa nei piedi a piantarsi una zappa dei piedi e cadere a causa di parole che dio non aveva detto se andiamo a leggere la scrittura dice non avvicinarti all'albero non mangiare perché nel giorno in cui tu mangerai morirai eva cosa dice al serpente il signore ci ha detto di non toccare l'albero ma il signore non ha detto di non toccare l'albero eva ha cercato di mettere ha cercato comunque di difendersi dalla tentazione naturalmente però nel suo tentativo di difendersi ha immesso un recinto di protezione non attorno all'albero ma attorno al comandamento di dio ecco quando voi sentite dire dagli ebrei mettiamo un recinto attorno alla torà la devono squillare gli allarmi fino a far rompere i timpani perché nel momento in cui eva ha messo un recinto attorno alla torà ha aggiunto un comandamento attorno alla torà non aggiungere nulla alle sue parole perché egli non ti rimproveri e tu sia trovato bugiardo cosa ha fatto eva ha detto il signore ci ha detto di non toccarlo magari il serpente gli avrà detto vediamo tocca questo frutto se non lo tocchi se lo tocchi vedrai che non muori e se non muori toccandolo non morirai neanche mangiandolo ed ecco che eva si è messa una zappa nei piedi aggiungendo un comandamento che secondo lei l'avrebbe protetta ma che in realtà l'ha fatta cadere in tentazione ecco quali sono i rischi di aggiungere parole ai comandamenti di dio alla parola di dio lo potremmo fare anche in buona fede e io credo alla buona fede di eva ma la sua buona fede non è sinonimo di protezione o di bolla d'acciaio lei si è tradita con le sue stesse parole ecco cosa dice la scrittura ogni parola di dio è affinata con il fuoco egli è uno scudo per chi confide lui non aggiungere nulla le sue parole questa cosa si dice in apocalisse guai a chi aggiunge guai a chi toglie dio dice anche giosuè non si allontani non si allontanino dalla tua bocca le parole scritte in questo libro mentre la tradizione aggiunge norme aggiunge clausole aggiunge un recinto attorno alla torà e questo è sbagliato perché non si può mettere un recinto attorno alla torà perché già la torà la parola di dio è il nostro recinto la parola di dio non ha bisogno di essere protetta la parola di dio ti protegge credi alla parola di dio e vivrai osserva i comandamenti e vivrai ma se disobbedisci morirai ecco eva ha disobbedito ha aggiunto quello che dio non aveva detto ed è caduta nella sua stessa trappola pensando di avere la meglio con il serpente non prendiamo iniziative non facciamo come i saggi che hanno deciso cosa bisogna fare dopo che il tempio è stato distrutto la scrittura dice farete queste cose di in età in età come statuto come norma perenne mentre vengono aggiunti io ho preso gli appunti durante la scena pasquale quando si festeggia pasqua ci sono tre ingredienti e li abbiamo letti ma la tradizione aggiunge le fave i carciofi l'uovo le prugne il miele la frutta secca eccetera eccetera ecco che la norma aggiunge aggiunge e nel momento in cui tu pensi di osservare la legge la stai trasgredendo perché stai facendo più di quello che la bibbia ti sta dicendo la scrittura da qualche parte dice non essere troppo giusto perché essere troppo giusti ti fa cadere in rovina non ti fa diventare più santo aggiungere una protezione alla torà ma chi ti credi di essere di proteggere la parola di dio la puoi difendere dal punto di vista apologetico contro gli scettici della scrittura che dicono che la bibbia non è parola di dio questa sì che è una occasione per poter difendere l'autorità scritturale della bibbia ma di per sé la bibbia non va protetta perché è essa che ci protegge i comandamenti le istruzioni che dio ci dà sono protettivi e non hanno bisogno di protezione se pensiamo che la parola di dio ha bisogno di protezione ci salvi chi può perché siamo noi a dover essere protetti non la parola di dio ecco questo per farvi capire quanto è pericoloso decidere al posto della bibbia decidere al posto della scrittura daniele ma tutto questo che c'entra con pesa c'entra perché appunto stiamo leggendo come oggi e ora ancora non sono arrivato nel cuore dell'argomento come ancora oggi molti movimenti sedicenti ebreo messianici che di ebraico non hanno nulla a parte le parole che sanno pronunciare a memoria con la bocca a parte l'indossare il talit a parte indossare la kippah o i tefillin ecco da un lato si interpreta letteralmente la scrittura quando si indossano i tefillin dall'altro lato si decide di aggiungere del nuovo quando evidentemente la scrittura già non ci basta quindi stiamo attenti a giudicare gli altri di essere dei tradizionalisti di essere cattolici quando poi già gli ebrei non fanno nulla di diverso ecco mentre gli ebrei hanno il loro magistero anche gli ebrei hanno il loro magistero ma daniele ma che stai dicendo sì il magistero il talmud perché è quel filtro attraverso il quale è addirittura senza il quale si può capire la parola di dio quindi lo spirito santo mettiamolo nell'immondizia e basiamoci sulla tradizione umana che è quella che annulla la parola di dio gesù si inselvaggiva contro i farisei perché loro si focalizzavano sulla tradizione che loro stessi inventavano piuttosto che basarsi sulle scritture e gesù diceva anche voi le scritture non le conoscete voi parlate 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 dite 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 ma poi neanche fate non osate sollevare neanche un grammo dei pesi che voi mettete sulle spalle delle persone e questa è la tradizione giudaica che non ha alcun riscontro nella parola di dio ma andiamo avanti adesso che vi ho specificato l'inizio del calendario il primo giorno del mese dell'anno nissan o aviv cosa va mangiato adesso vediamo chi può accostarsi alla pesa ebraica e come ho anticipato un conto è la pasqua di mosè dell'uscita dall'egitto un conto è la pasqua dei credenti in yeshua e mi riferisco in modo particolare ai gentili innamorati del mondo ebraico e che si travestono da ebrei spacciandosi per ebrei senza che poi di fatto ebrei lo sono davvero guardiamo l'esodo 12 versetti 43 51 vi leggo tanti testi abbiate pazienza ma voglio prendermela comoda poi se voi volete se vi annoiate stoppate il video e lo riprendete in un secondo momento il signore disse a mosea daronne questa è la norma della pasqua questa è la norma della pasqua non quello che dicono i saggi nessuno straniero ne mangi punto anzi virgola ma ogni schiavo che avrai comprato potrà mangiarne dopo essere stato circonciso perché lo straniero no e lo schiavo comprato magari straniero sì perché nel momento in cui un ebreo acquistava uno schiavo o servo o lavoratore dipendente e che viveva in casa sua questo servo acquisiva come diremmo oggi lo stato di famiglia di quell'ebreo quindi nel momento in cui rientrava a far parte dello stato di famiglia di quell'ebreo allora faceva parte del nucleo familiare e noi leggiamo anche quando c'era la storia di abramo che lo schiavo che avrai comprato e che vive in casa tua sarà circonciso quindi vediamo che lo schiavo era autorizzato perché viene adottato dalla famiglia ebraica presso la quale lavorava serviva ma dopo essere stato circonciso e quindi ritorniamo a quello che abramo aveva detto circonciti tutti i maschi della tua casa tutti i maschi tra i tuoi servi tutti i maschi tra coloro che è acquistato con denaro bene se non c'è circoncisione non può esserci l'accostamento alla pasqua giudaica ebraica di esodo lo straniero di passaggio e il mercenario non potranno mangiarne ecco si ripete nuovamente che lo straniero non deve mangiarne ma chi sono lo straniero di passaggio il mercenario che non possono accostarsi alla pasqua sono semplicemente quegli stranieri appunto di passaggio che non rimangono permanentemente in israele come dei mercanti per esempio quindi durante la festa di pasqua se durante la festa di pasqua ci sono c'erano dei mercanti di passaggio nella terra di israele loro non erano tenuti ad accostarsi alla pasqua perché non erano ebrei erano solo di passaggio temporaneamente mentre il mercenario non è il guerriero il soldato ma era colui che veniva assunto come lavoratore dipendente veniva pagato a differenza dello schiavo che non veniva pagato se non dopo il suo rilascio dopo i termini stabiliti quindi il lavoratore assunto o il dipendente dell'azienda o il mercante di passaggio straniero non erano tenuti ad accostarsi alla pasqua perché allora un mercante che doveva rimanere in israele solo per due giorni perché doveva circoncidersi per amore della della pasqua quando poi se ne sarebbe tornato di nuovo nella sua patria ecco certe cose contestualizzate sono molto chiare si mangi ogni agnello per intero in una casa quindi l'agnello per intero va mangiato non portare fuori casa nulla della sua carne e non gli sperzerete neanche un osso tutta la comunità di israele celebri la pasqua quando uno straniero invece soggiornerà con te e vorrà fare la pasqua in onore del signore siano prima circoncisi tutti i maschi della sua famiglia ecco che qui la scrittura autorizza i gentili ad accostarsi alla pasqua previo previa circoncisione e veniva circonciso quella persona che decideva di rimanere ad abitare con israele e non ci sto un anno due anni e poi me ne vado no rimaneva lì perché come dice la scrittura viene definito come un ebreo a tutti gli effetti poi venga pure a fare la pasqua dopo essere stato circonciso e sia come un nativo del paese ma nessun in circonciso ne mangi nessun in circonciso vi sia un'unica legge tanto per il nativo del paese quanto per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi quindi chi decide di abitare in mezzo a voi si adegui alle vostre norme alle norme della pasqua tanto l'ebreo quanto il gentile quindi il gentile che si accosta alla pasqua ebraica che commemora l'uscita dei figli di israele dall'egitto dalla schiavitù dell'egitto dell'età del bronzo e quindi questa è un'argomentazione storica non spiritualistica deve circoncidersi quindi chiunque osservi la pasqua in memoria di mosè deve essere circonciso e quanti oggi che si definiscono ebrei messianici non circoncisi osservano la pasqua non in nome di yeshua fate questo in memoria di me adesso vedremo in cosa consiste la pasqua del signore yeshua molti me lo chiedono daniele un credente in gesù se vuole osservare la pasqua che deve fare che rituali deve seguire adesso ci arriveremo quindi dicevo che molti messianici sedicenti credenti in yeshua che commemorano l'uscita dall'egitto come fanno gli ebrei ortodossi oggi e per ebrei ortodossi oggi mi riferisco non ai credenti in yeshua ma agli ebrei normali ortodossi che non sono nati di nuovo perché si nasce di nuovo in cristo gesù se non si è credente in gesù non si può nascere di nuovo quindi gli ebrei ortodossi oggi non sono nati di nuovo pertanto ancora sono rimasti relegati alla legge di mosè e gli ebrei messianici che fanno altrettanto che si definiscono credenti in yeshua ma si comportano come gli ebrei ortodossi commemorando l'uscita dall'egitto piuttosto che la pasqua di yeshua si comportano come quelli che non sono nati di nuovo sì ma gesù era un osservatore della legge gesù osservava la pasqua ma ovvio perché lui è nato sotto la legge il gentile no il gentile è nato sotto la legge del peccato ed è da quello che lui deve essere liberato gli ebrei sono nati sotto la schiavitù d'egitto ed è da quella che sono stati liberati ma poi ebrei e gentili insieme in gesù cristo vengono tutti liberati dalla schiavitù anche del peccato ma i gentili solo dalla legge dalla schiavitù del peccato non quella d'egitto quindi cari fratelli ebrei messianici o sedicenti tali che di ebraico non avete nulla se non solo l'etichetta denominazionale non comportatevi come i non nati di nuovo che non conoscono cristo perché adesso vedremo in cosa consiste la pasqua di gesù sì gesù osservava era questo era quello sì ma noi stiamo parlando di un gesù prima della morte e risurrezione di un gesù pienamente osservante della legge ma perché è nato e morto sotto la legge dice la scrittura il primo giorno degli azimi matteo 26 i discepoli si avvicinarono a gesù e gli dissero dove vuoi che ti prepariamo la pasqua ecco questo è un prano schiacciante che dimostra che gesù era un osservante della pesac ma ci mancherebbe altro mi stupirei se non lo fosse ma perché era nato sotto la legge e quindi lui commemorava la legge che commemorava l'uscita dall'egitto perché ancora non c'era stato nessun sacrificio pasquale da parte di gesù le cose non erano ancora cambiate e ancora in marco 14 il passo parallelo sinottico a matteo 26 il primo giorno degli azimi il primo giorno di pasqua quando si sacrificava la pesac i suoi discepoli gli dissero dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la pasqua quindi gesù effettivamente la mangiava sta benedetta pasqua sto benedetto agnello perché gli viene chiesto quando è che ti prepariamo la pasqua fu durante l'ultima scena che gesù rivelò di essere lui l'agnello pasquale definitivo e unico così come il sacrificio di gesù è stato fatto una volta e per sempre anche il sacrificio pasquale anche la scena pasquale è stata fatta una volta ma da commemorare in un determinato modo che non è il ricordo di mosè non è il ricordo dell'agnello non è il ricordo dell'erba amara non è il ricordo del pane azimo non è più questo per i credenti in yeshua nati di nuovo tanto gli ebrei quanto i gentili e ancora luca 22 gli discepoli gli chiestero dove vuoi che prepariamo la pasqua quindi gesù era un osservante ma perché ancora non era morto sulla croce era osservante del ritualismo ma quello biblico non quello che i saggi hanno deciso perché ancora il tempio era bello all'impiedi e quindi ancora i saggi non avevano deciso nulla anche se molte norme già i saggi iniziavano ad elaborarle lo sappiamo da come yeshua si inselvaggiva contro i farisei i sadducei gli scribi e tutti i maestri che insegnavano la parola di Dio in maniera distorta e sbagliata ma adesso vediamo qual è la pasqua del signore leggiamo prima corinzi 11 24 e 25 questo è paolo che parla ai corinzi si sta rivolgendo a dei gentili vediamo se gli sta insegnando a ricordare l'uscita dall'egitto o la memoria di yeshua e dopo aver reso grazie gesù lo spezzò e disse questo è il mio corpo che è dato per voi fate questo in memoria di me nello stesso modo dopo aver cenato prese anche il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue nuovo patto non l'antico nuovo patto fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di mosè no in memoria di me tornando a qualche capitolo precedente ecco qua nel capitolo 11 di prima corinzi paolo dice in che modo i credenti in yeshua gentili quindi messianici gentili messianici devono eseguire il nuovo rituale il nuovo patto pane e vino non l'agnello non le erbe amare pane e vino il pane è il simbolo del corpo di cristo ma questo non vuol dire che i credenti in gesù diventino cannibali e il vino è il simbolo del sangue che non vuol dire che siano i credenti in gesù dei pagani che bevono il sangue sacrificale come facevano appunto i popoli circostanti quando sacrificavano gli animali o addirittura quando sacrificavano persino esseri umani ne raccoglievano il sangue e lo bevevano lo facevano i vichinghi lo facevano i maia lo facevano tanti popoli dell'antichità bere il sangue della vittima sacrificale questo bere sangue significava acquisire la vitalità della vittima pratiche che la scrittura proibisce persino nel concilio di gerusalemme questa pratica viene proibita vi asterrete dal sangue vi asterrete dai cibi sacrificati agli idoli vi asterrete dai cibi soffocati ovvero animali che non sono stati dissanguati perché la carne dell'animale doveva essere privata totalmente di ogni goccia di sangue e il sale che veniva sparso sulla carne del sacrificio serviva proprio per assorbire il sangue dalla carne e poi questo sale che finiva faceva veniva gettato per le strade vi ricordate no? voi siete come il sale della terra il sale insipido viene gettato per le strade ma il sale buono serve per condine ecco non siate come il sale che viene gettato per le strade che gli uomini calpestano perché quel sale è intriso del sangue sacrificale quel sangue che ogni credente in Yeshua deve astenersi quindi dimenticatevi cari amici ghiottoni della carne al sangue dimenticatevi del sanguinaccio sì ma nessuno ci deve giudicare quando al mangiare quando al vestire quando alle feste ma intanto atteniamoci alle leggi che il signore ha dato per i gentili sei disposto mannaggia ad astenerti da sangue per il signore che sacrificio sei disposto a fare per colui che è morto per te che ti spaventi non riesci proprio a fare a meno della carne al sangue non ci riesci proprio a fare questa rinuncia per il signore visto che è comandamento del nuovo testamento e non della legge levitica attenzione non c'entra più mose qui il concilio di gerusalemme è servito proprio per cercare di ammortizzare l'ingresso dei gentili nel mondo ebraico di Gesù di Yeshua non di Mosè ecco nel capitolo 11 di I Corinti Paolo sta istruendo ai gentili cosa devono fare per accostarsi alla Pasqua di Yeshua pane e vino basta mentre i messianici ebrei messianici che vengono dal mondo gentile e che non hanno mai avuto a che fare con l'ortodossia giudaica non sono nati da ebrei ortodossi non sono mai stati circoncisi adesso a questa cosa ci torneremo vediamo cosa dice invece Paolo ai Corinzi prima Corinzi qualche capitolo prima il 5 il vostro vanto questo è il contesto iniziale dei primi versetti è quando si scopre che c'è un giovanotto che si prende la moglie del padre e fornica con lei e quindi questo giovanotto viene espulso dalla chiesa affinché possa tribolare nella carne ma possa quantomeno lavorare sul suo spirito e quindi viene gettato viene dato in ballia di satana ecco vi invito a leggere il contesto anche per avere un quadro più chiaro di quello che adesso sto per leggere prima Corinzi 5 6 8 il vostro vanto non è una buona cosa non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta purificatevi del vecchio lievito Mosè per essere una nuova pasta come già siete senza lievito poiché anche la nostra Pasqua cioè Cristo la nostra Pasqua significa il nostro agnello cioè Gesù è stata già emolata celebriamo dunque la festa di Pasqua non con il lievito vecchio di Mosè né col lievito di malizia e di malvagità ma con gli azimi della sincerità e della verità questa è la Pasqua di Gesù Cristo se vuoi essere un osservante della Pasqua di Gesù Cristo devi mangiare gli azimi della sincerità e della verità devi essere un uomo sincero e verace questi sono i principi etici e morali richiesti dalla vera Pasqua in Gesù Cristo accompagnati da ciò che andava fatto in memoria di me disse Gesù Cristo l'atto simbolico ci sta il mangiare il pane e bere il vino ma se questo pane e il vino non vengono accompagnati dagli azimi della sincerità e della verità la Pasqua si annulla anzi la scrittura da qualche parte insegna che non bisogna accostarsi alla cena del Signore se non si è riconciliati con qualcuno perché è molto pericoloso accostarsi al corpo e al sangue di Gesù Cristo in condizione di impurità spirituale la nostra Pasqua il nostro agnello è Gesù Cristo che è stata immolata il pane che si mangia è il corpo di Cristo e il corpo di Cristo rappresenta l'agnello di Mosè e il sangue che si mangia che si beve rappresenta la protezione di quel sangue che fu sparso sulle travi sulla porta di ogni casa dei giudei ebrei celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito né con lievito di malizia e di malvagità ecco perché non bisogna accostarsi alla Pasqua di Gesù quando si è in un momento di ostilità verso un fratello verso un parente verso un familiare perché se prima non ci si riconcilia se prima non ci si presenta dinnanzi al cospetto del Signore con sincerità e verità ma con malizia e malvagità perché magari c'è un fratello che ci sta antipatico intanto vai a riconciliarti con lui poi allora sei autorizzato ad accostarti alla cena del Signore questa è la Pasqua nessun ritualismo ma una commemorazione simbolica del pane e del vino che rappresentano il corpo e il sangue di Cristo accompagnati dalla sincerità e dalla verità la Pasqua di Gesù Cristo è il ricordo del fatto che lui ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e non dalla schiavitù degli egiziani quindi quegli ebrei messianici che non sono ebrei ma gentili che si vestono da ebrei e si accostano alla Pasqua ebraica di Mosè da non circoncisi stanno trasgredendo la parola di Dio la stanno annullando perché Esodo dice che lo straniero che si vuole accostare alla Pasqua quella che ricorda l'uscita dall'Egitto deve essere circonciso se non è circonciso non è autorizzato ad accostare a mangiare alla Pasqua e ancora la scrittura dice riguardo alla circoncisione la circoncisione è utile Romani 2 25 e 26 la circoncisione è utile se tu osservi la legge ma se tu sei trasgressore della legge la tua circoncisione diventa incirconcisione se il non circonciso osserva le prescrizioni della legge la sua incirconcisione non sarà considerata come circoncisione ecco qua vediamo che c'è una clausola di giustizia di Dio Dio è giusto non è soggetto a favoritismi così come il circonciso trasgressore della Torah viene considerato non circonciso a sua volta il non circonciso che invece rispetta la Torah viene considerato più circonciso dell'ebreo circonciso che non osserva la legge altresì la scrittura dice sempre l'apostolo Paolo è sempre la stessa persona non sta dicendo cose contraddittorie è sempre la stessa persona che prima scritto qua ai Romani e ora scrive ai Corinzi prima Corinzi 7.19 la circoncisione non conta nulla e l'incirconcisione non conta nulla ma ciò che conta è l'osservanza dei comandamenti ecco come è possibile che la circoncisione e l'incirconcisione non contino nulla quando la circoncisione rientra nei comandamenti primari di Dio a quali comandamenti ci stiamo riferendo se l'incirconcisione e l'incirconcisione in fin dei conti non contano nulla alla lettera della legge o allo spirito della legge i comandamenti di Dio in Yeshua sono i comandamenti di Yeshua ama il tuo prossimo come te stesso ama il Signore Dio tuo primo comandamento ama il tuo prossimo come te stesso decimo comandamento questi due comandamenti non escludono gli altri otto che ci stanno in mezzo li includono questo è il famoso principio dell'atbash ebraico prendere la prima lettera dell'alfabeto prendere l'ultima lettera dell'alfabeto il che include tutte le altre lettere dell'alfabeto questo è un principio rabbinico che Gesù stesso ha applicato quando ha detto qual è il comandamento maggiore ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso ma ce n'è un altro che è simile al primo ama il tuo prossimo come te stesso ecco basta osservare questi due comandamenti che si è automaticamente osservanti della legge dicono i cristiani ma amare il Signore Dio tuo il tuo prossimo significa rispettare tutti i comandamenti non solo questi due l'amore che si si rivendica in questi due comandamenti non è l'amore sentimentale perché in ebraico nella mentalità nella zucca degli ebrei antichi e biblici l'amore non era un sentimento l'amore è azione sì per fede veramente veramente il figlio di Dio più di sedicenti cristiani che il figlio di Dio ce l'hanno solo nella bocca ma non nel cuore perché aggiungono comandamenti perché ne tolgono quelli scomodi il Vangelo va predicato e accettato in tutte le sue spigolature anche quelle più fastidiose perché la sana dottrina è quella che dà fastidio se tu ascolti qualcosa che ti dà fastidio non devi vederlo come un campanello d'allarme negativo perché se tu vedi che qualcuno ti insegna la sana dottrina ma tu non l'accetti il fatto è che la sana dottrina ti dia fastidio dovrebbe indurti ad accettare la sana dottrina questo è un segnale perché è scritto che la sana dottrina darà fastidio e siccome dà fastidio per alleviare il prurito del desiderio di sentirsi dire le cose che ci piacciono ci andiamo a cercare i maestri secondo le nostre voglie e recentemente ho avuto anche un'esperienza di questo tipo che una persona cercava di strapparmi dalla bocca determinate i suoi pensieri che voleva sentirmi dire non c'è riuscita a strapparmi dalla bocca quello che le sue orecchie volevano sentir dire e mi ha voltato le spalle dicendomi che sono eretico e che di parola di Dio non ci capisco nulla ecco se io l'avessi assecondata avrei sicuramente acquisito la fiducia di quella persona ma avrei perso la fiducia del Signore e io non permetterò mai più a nessuno di fare questi giochetti con me perché ci sono cascato più di una volta ma non voglio caderci più finché possa dipendere dalla mia lucidità perché cari fratelli noi non siamo super uomini anche se abbiamo il Signore anzi triboliamo più di prima perché ora che viviamo nella conoscenza del Signore noi le vediamo certe cose ma chi vive nell'ignoranza certe cose non le nota non ci fa caso e quindi tra virgolette soffre di meno ma non vuol dire che ora uno che crede in Gesù soffre tanto ma avendo la consapevolezza della verità allora si entra in uno stato di responsabilità maggiore ecco perché a volte la scrittura dice è meglio per te che non conosci il Signore e quindi vivere nell'ignoranza piuttosto che conoscere la verità e comportarti come uno che non conosce la verità allora in quel caso è meglio per te che ti leghi al collo un masso e ti lasci sprofondare negli abissi del mare è meglio per te questo Galati 5 versetto 6 infatti in Gesù Cristo in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore ma guarda caso la parola fede e opere sono messe unite solo le opere non bastano se hai fede se non hai fede e solo la fede non basta se non hai le opere le opere di ravvedimento le opere i frutti dello spirito ecco come si fa a mostrare i frutti dello spirito santo non facendo un bene merito devi fare qualcosa e sicuramente i frutti non sono nello sbandierare ai 4 venti ah guarda ho guarito quella persona il Vangelo di Cristo non è uno spettacolo il Vangelo di Cristo non è suonare le trombe della beneficenza che facciamo non dobbiamo mostrare quanto siamo bravi nell'aiutare il prossimo perché questo serve per essere visto dagli uomini perché quando gli uomini si accorgono delle nostre opere buone Dio ci sta ignorando perché noi lo stiamo facendo per farci vedere dagli uomini ma se noi facciamo il bene a riflettori spenti mentre da un lato gli uomini neanche ci calcolano di striscio ma Dio ci sta osservando proprio in quel momento perché lui ci osserva nel segreto quanti video circolano su internet di guarigioni che vengono di braccia che si allungano di gambe che si accorciano che si allungano di persone che si alzano dalle sedie a rotelle che schiacciano gli occhiali perché finalmente ci vedono ma è evidente il miracolo ma lo so che è evidente il miracolo come era evidente il miracolo anche dei maghi d'Egitto che sapevano replicare i prodigi di Mosè il miracolo c'è ma qual è l'origine del miracolo i maghi d'Egitto o la potenza di Dio attraverso Mosè le arti occulte o i prodigi di Dio quindi io credo nei miracoli credo che le persone si alzano dalle sedie a rotelle credo che i muti ritornano a parlare credo che la gamba corta ritorni al suo posto ma secondo i modelli biblici che io osservo non tutti i miracoli vengono da Dio perché quando un miracolo che avviene non avviene da Dio serve per glorificare l'uomo che sta imponendo le mani o che sta svolgendo il miracolo e infatti tutti poi lo acclamano per essere un guaritore per essere l'unto di Dio quando in realtà dietro quelle mani imposte ci sono schiere di demoni che si prendono a gioco delle masse la vera chiesa cari fratelli e sorelle è quella invisibile la vera chiesa è quella che dà fastidio la vera chiesa è quella che predica volto scoperto la sana dottrina una sana dottrina che può venire solo dalla parola di Dio quindi non facciamo come Eva che ha giunto un recinto attorno non all'albero ma alla Torah alla parola di Dio non facciamo come i saggi di Israele che hanno deciso cosa bisogna mettere sulla tavola di Pasqua quando Mosè è stato chiaro carne di agnello erba mara e pane azimi e qua ci mettiamo veramente le fave i carciofi l'uovo le prugne l'uovo di Pasqua ecco l'uovo di Pasqua da dove nasce io prima pensavo che l'uovo non c'entravi nulla con l'ebraismo ma invece avendo spulciato questo testo che è il galateo rabbinico number one usato dai giudei oltre al Talmud ci sono scritte cose che effettivamente ti aprono gli occhi non che ti fanno capire cosa dice la scrittura ma che ti fanno capire quanto l'ortodossia e il messianismo infiltrato nella cristianità stia perpetrando nelle verità bibliche cose che non sono scritte quindi infatti in Cristo Gesù non ha valore nella circoncisione o nella incirconcisione ah quindi un credente in Gesù può accostarsi alla Pasqua da incirconciso visto che non conta nulla e no se ti accosti alla Pasqua di Gesù allora non serve a nulla la circoncisione o l'incirconcisione ma la circoncisione diventa utile se tu osservi la lettera della legge la Pasqua di Gesù è lo spirito della legge la Pasqua di Mosè è la legge letterale quindi quando i santi credenti in Gesù festeggiavano le azime si accostavano alla festa delle azime si accostavano a questa qui celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio quello di Mosè ma con il lievito né con il lievito di malizia e di malvagità ma con gli azimi della sincerità e della verità la Pasqua di Gesù è una Pasqua di commemorazione dell'uscita dalla schiavitù del peccato e dalla questione etica e morale della sincerità e della rivederità quindi non possiamo accostarci alla Pasqua di Gesù se siamo in conflitto con qualcuno perché quello rischia anzi di causarci perché no anche una maledizione che ci attiriamo perché? perché stiamo facendo qualcosa contro le scritture quindi nel momento in cui ci si accosta alla Pasqua di Gesù fate questo in memoria di me allora non serve la circoncisione ma nel momento in cui ti accosti alla Pasqua di Mosè dice Esodo se ti definisci credente in Gesù osservante della Torah della lettera della legge del ritualismo allora ti devi circoncidere perché la scrittura dice che si circoncide è obbligato a osservare la legge e se voi trasgredite il comandamento di circoncidervi per osservare la Pasqua ebraica nel nome di Mosè anche se andate contro questo comandamento sappiate che state andando contro tutta la Torah e questo lo dice il Nuovo Testamento ancora in Galati l'Apostolo Paolo dice infatti tanto la circoncisione che è l'incirconcisione non sono nulla lo sottolinea ma perché? cos'è ciò che conta? quello che importa è l'essere una nuova creatura la nuova nascita la nuova creatura se un credente si comporta come il giudeo ortodosso che non conosce Cristo e che non ha accettato Yeshua come Signore Salvatore Messia quindi come un non nato di nuovo allora quello che conta è essere una nuova creatura non un non nato di nuovo come l'ortodossia non comportiamoci come coloro che non conoscono Yeshua né lo vogliono accettare come Messia e Salvatore eppure giudichiamo il cattolico subito perché hanno il magistero la tradizione post-apostolica i padri della chiesa tutte le dottrine inventate Gesù Maria madre di Dio l'assunzione di Maria la promozione di San Giuseppe eccetera eccetera quante cose sono state aggiunte dalle tradizioni noi accusiamo i cattolici ma poi siamo i primi parlo in senso generico mi includo ma è un eufemismo siamo i primi a praticare delle tradizioni che non hanno niente a che fare con la scrittura ci accostiamo alla Pasqua ebraica di Mosè da non circoncisi e questo va contro la Torah costruiamo recinti attorno alla Torah e questo non è biblico perché chiunque aggiunge parole dalla parola di Dio sarà trovato bugiardo davanti a Dio dice i proverbi ogni parola di Dio è affinata col fuoco come l'oro egli è uno scudo che confida in lui Dio la parola di Dio è uno scudo non ha bisogno di scudi attorno chi confida nella parola di Dio è circondata da uno scudo di protezione e poiché Jeshua in Apocalisse viene chiamato il suo nome è la parola di Dio quindi la parola di Dio è il nostro scudo ed è protetto dallo scudo chi confida nella parola di Dio non aggiungere nulla alle sue parole non mettere recinti scudi umani attorno allo scudo del santo creatore dell'universo perché egli non ti rimproveri e tu sia trovato bugiardo i saggi hanno deciso che sulla tavola dovevano essere mangiate determinate cose ma queste decisioni hanno fatto di loro uomini bugiardi uomini che il Signore deve rimproverare e che gli sgridi il Signore per coloro che predicano Jeshua con il Talmud in mano che predicano Jeshua mettendoci più Mosè che Jeshua abbandonate il vecchio lievito Mosè ci è servito come istruzione per capire le ombre si sarebbero poi materializzate queste ombre in una forma concreta che è Gesù Cristo quindi cari fratelli messianici non ce l'ho con voi io vi ho visti da vicino vi conosco da vicino ma voi state dormendo siete nella fase rem non mettetevi a insegnare la cabbala non mettetevi a insegnare alla luce del Talmud perché la tradizione annulla la parola di Dio bene cari fratelli e sorelle io è passata poco più di un'ora spero di aver detto tutto quello che avevo da dire perché i versetti qui che mi sono messo davanti li ho letti tutti non ne ha trascurato nessuno comunque penso anzi no non ho terminato mamma mi è venuto un lampo volevo chiudere con due cose volevo farvi notare la differenza fra lettera della legge e spirito della legge è un'altra mia esperienza personale che dopo vi racconto io ho parlato di lettera della legge di spirito della legge in cosa consiste ecco la scrittura dice che l'uomo giusto è colui che osserva i comandamenti di dio chi non osserva i comandamenti di dio è un uomo contrario ingiusto vi ricordo la storia di giuseppe e maria quando maria fu visitata dall'angelo concepì giuseppe gesù ma giuseppe venne a sapere che maria era incinta e lì un attimo di suspense per l'ebreo che legge per la prima volta il vangelo maria incinta ecco la prima cosa che uno pensa un ebreo ortodosso è denunciarla ai capi religiosi condurla nella pubblica piazza e lapidarla dovete sapere che all'epoca colui che avrebbe scagliato la prima pietra sarebbe stato il marito tradito a seguito dopo il lancio della prima pietra tutta la comunità avrebbe ammazzato assassate non solo l'adultera ma anche l'amante dell'adultera nel caso di maria non c'è stato nessun amante perché in sostanza il papà di gesù sarebbe lo spirito santo che è dio stesso quindi non c'era nessun uomo da condannare quindi per la legge maria non era condannabile con la lapidazione visto che questo amante non era non si poteva trovare da nessuno poi ci sono molte speculazioni nel talmud dove addirittura si dice che maria fosse una prostituta che gesù fosse uno stregone che si dedicava alla magia che adorasse un mattone tante cose bizzarre si dicono contro gesù e maria con epiteti strani yeshu addirittura che significa in acronimo ebraico aramaico possa il suo nome essere cancellato ecco quando un ebreo vi parla di gesù chiamandolo yeshu e non yeshua che significa hashem salva con molta noscialanza vi sta parlando di yeshua ma con l'acronimo che c'è nascosto sotto questo yeshu possa il suo nome essere cancellato e voi sottolineate yeshua e non yeshu non chiamatelo yeshu chiamatelo yeshua perché chi lo chiama yeshu sta profanando il nome di yeshua ecco giuseppe secondo la lettera della legge avrebbe dovuto denunciare maria sottoponendola all'infamia pubblica e quindi alla lapidazione ma la scrittura specifica poiché giuseppe è uomo giusto non la espose a infamia e la lasciò in segreto ora se l'uomo giusto per la scrittura è colui che osserva la legge come si può definire giusto giuseppe se lui la legge l'ha trasgredita perché non l'ha condotta alla lapidazione quello che disse gesù è i principi della legge sono la misericordia la giustizia l'amore la carità ma giuseppe ebbe amore carità nei confronti di di maria preferì lasciarla in segreto deluso che l'avesse tradita chissà con chi ma piuttosto che esporla alla pubblica diffamazione e farla uccidere ecco se giuseppe fosse stato un osservatore della lettera della legge che è quella che uccide avrebbe ucciso maria ma poiché lui è stato un osservatore dello spirito della legge allora non l'ha esposta infamia non l'ha uccisa ma l'ha lasciata in segreto poi l'angelo gli parlò nel sogno e gli disse caro giuseppe sappi che quel figlio è di dio e allora lì giuseppe fu rassicurato sposò maria perché ancora erano fidanzati sposò maria e quindi vediamo come con quale papà terreno gesù è cresciuto con un papà osservatore della lettera della dello spirito della legge non della lettera della legge ecco quale signor padre giuseppe ha avuto gesù padre terreno poi il padre celeste ovviamente ineguagliabile ecco una differenza fra spirito della legge e lettera della legge applicata dal papà adottivo di gesù vi ho raccontato tutto questo a maradan sul sull'incongruenza sull'accostarsi alla pasqua di mosè da incirconcisi che ti fa che ti rende più trasgressore della torà perché quando io frequentavo i messianici mi era stato chiesto di ufficiare alla pesa al sedere pasquale pubblicamente tramite internet ma siccome io ero in conflitto con la scrittura nel senso che effettivamente la scrittura mi insegnava che un gentile che si accosta alla pasqua deve essere circonciso la pasqua di mosè io non me la sono sentita di partecipare perché non ci tenevo proprio a circoncidermi perché io non ho intenzione assoluta di giudaizzarmi non è la giudaizzazione che va ricercata per essere approvati da dio quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore non vale la circoncisione o l'incirconcisione ma qualora avessi dovuto predicare pronunciare un insegnamento pasquale in memoria di Yeshua quindi pane e vino e non le fave i carciofi l'uovo le azime e tutto il resto se avessi dovuto fare queste cose allora avrei partecipato e magari sarei ancora lì a insegnare in questa congregazione scuola messianica ma il signore mi ha aperto gli occhi e poiché io voglio essere coerente con le scritture e che finché dipenda da me finché io ne ho consapevolezza coscienza non ci penso accadere per l'ennesima volta allora decisi di abbandonare in tronco questa realtà dando le mie dimissioni e quindi dimostrando a me stesso che bisogna essere in grado con l'aiuto del signore di troncare di netto una cosa quando non viene da dio non pensarci non pregarci sopra vediamo che il signore cosa mi dice il signore in preghiera ma ce l'aviamo lo spirito santo no che ci parla all'istante quando certe cose non c'è bisogno l'arca di scienza per capirlo svegliamoci tutti che vanno a caccia dell'ebraicità dei propri parenti come se il mondo ebraico fosse una super mega razza è vero il popolo di dio prescelto da dio ha la sua specialità ma non giova a nulla essere ebrei perché il vero giudeo dice la scrittura è colui che è circonciso nel cuore non nella carne colui che osserva lo spirito della legge non la lettera della legge la lettera della legge fa parte del vecchio lievito dell'antico patto che non è stato annullato perché se Gesù avesse abolito la lettera della legge a quest'ora oggi neanche gli ebrei avrebbero ortodossi avrebbero la possibilità di osservare quello che possono osservare perché Gesù non ha abolito la legge per i credenti in Gesù non avrebbe abolito la legge solo per i credenti in Gesù ma per tutti coloro che rientravano in quel mondo tanto gli ebrei quanto i gentili e poiché Gesù è il Signore così come ha dato le leggi per mezzo del Padre il Padre ha dato le leggi a Mosè lui ci ha dato dei nuovi comandamenti che non erano nuovi erano già scritti nell'Antico Testamento nuovi per chi li ascoltava perché i farisei i sadducei gli iscrivi non le insegnavano queste cose vi do un nuovo comandamento ma nuovo alle vostre orecchie ma che in realtà è più antico è antico quanto la Bibbia questo comandamento ecco cos'è che mi ha spinto a lasciare la yeshivat shuvu lo dico apertamente perché è girato voce che io ho lasciato la yeshiva per problemi miei personali di famiglia no io con la mia famiglia non abbiamo avuto problemi che mi hanno spinto a lasciare la yeshiva io ho lasciato la yeshiva per problemi che mi stava causando la yeshiva quindi lasciate stare quelli che cercano di insabbiare certe notizie io lo dico con la faccia perché purtroppo anche la mia reputazione è stata messa come dire a reventaglio a causa di cattive voci nei miei confronti e quindi anche se a distanza di tempo a freddo prendo posizione e devo difendere anche la mia persona perché ancora qualcuno ha da dire sulla mia persona e che dio li benedica quindi tutto questo giro di parole per dirvi anche il motivo per il quale non faccio più parte della yeshiva non mi chiedete come iscriversi alla scuola scrivete le loro mail io non voglio avere più nulla a che fare ma ciò non toglie che la yeshiva mi ha aiutato tantissimo in conoscenza ho conosciuto persone meravigliose che le reputo tuttora tali il rabbino Shapira mi ha anche sostenuto economicamente durante la pandemia perché avevo perso il lavoro e quindi io non voglio sputare sul piatto dove ho mangiato e ringrazio pubblicamente gli aiuti coloro che mi hanno aiutato sostenuto ma le mie discussioni di oggi non vogliono essere un attacco contro una yeshiva o contro un mondo ma contro la falsa dottrina io amo i miei fratelli amo chiunque amici e nemici però se devo proprio avercela con qualcuno o qualcosa ce l'ho con satana e con le influenze che satana sui figli di dio che pensano di osservare la legge proprio nel momento in cui la stanno trasgredendo il nome di yeshù e questa è una profanazione del nome comunque termino qui cari fratelli e sorelle il mio intervento chiedo scusa se alcune parole sono state dure ma allo stesso tempo non mi sento di chiedere scusa qualora queste parole sono state suggerite dal signore e non dalla carne vi benedico nel nome di yeshù nel nome del padre del figlio e dello spirito santo e ci vediamo prossimamente con un prossimo video shalom vi voglio bene